allora questo è il buongiorno buongiorno dio 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 santo dio santo quanto sei quanto sei quanto sei quanto sei sei immenso sei immenso immenso più grande della mia mano più grande della mia mano ragazzi qui non si scherza non si scherza vediamo un po questo è un chilo di porcino un chilo ragazzi un chilo di porcino ragazzi ragazzi un chilo di porcino un chilo ragazzi